Amiche e amici di Rossini TV, oggi si inaugura la mostra Neron Art edizione 2023 qua al castello dei Brancaleoni di Piobico. Gli artisti che ovviamente ringrazio a nome mio e di tutta l'amministrazione si sono cimentati nel fare ovviamente come tutti gli anni delle bellissime opere che contraddistinguono appunto la loro arte e il loro stile ma allo stesso tempo hanno portato sì meno articoli ma molto più significativi quindi anche gli allestimenti risentono di questa modifica, di questa minor quantità e sono veramente delle stanze ben allestite. L'arte per me è meditazione, è bellezza, è sentimento e passione quindi se l'arte e quindi le mostre che noi realizziamo riescono nel pubblico a trasmettere queste sensazioni io già sono contento così. In più sono contento per tutti gli artisti che hanno esposto, sono artisti locali poi ci sono alcuni della Valtiberina ma principalmente artisti locali del Montenerone che in poche parole realizzano opere prendendo spunto da quello che è la nostra tradizione, la nostra storia. È un orgoglio per me che sono appunto di questo territorio, un territorio ricco di arte e di cultura a 360 gradi, quest'arte e questa cultura vorremmo portarla anche fuori quindi ho fatto prima una proposta di poter, al termine di questa mostra, poterla portare appunto in altri luoghi per poter mostrare quello che è stato fatto qui e per fare anche pubblicità alla prossima edizione, alla quinta che ci sarà il prossimo anno. Il castello è aperto tutti i giorni, quindi dalle 9 alle 12, dalle 15 e 30 alle 19 e 3 alle 18 e 30, alle 19 nei giorni festivi e il biglietto di ingresso è 7 euro salvo riduzioni, quindi salvo anche scontistica per i gruppi e è sempre possibile visitare la Neronarte nel percorso di visita come così è sempre possibile anche senza la presenza di guida godere di tutte le altre stanze, quindi tutti i musei del castello e degli appartamenti nobili grazie ad un innovativo percorso di visita proprio dato da Plexiglass Informativi con QR Code per audio e videoguida.